È una passione di famiglia tramandata di padre in figlio quella che oggi Gianluca Ghirelli, scultore classe 1999, nato e cresciuto a Gubbio, vive e trasmette attraverso le sue opere. Opere che rappresentano un omaggio alla città di Pietra, alle sue tradizioni, ai suoi simboli, ai suoi monumenti, alle mani artigiane che quella stessa città l'hanno plasmata, scolpita. Prossimo al diploma all'Accademia Belle Arti di Perugia, Gianluca ci ha aperto le porte del suo laboratorio e mostrato parte della sua produzione. Si parte da quello che è l'argilla, come nelle botteghe del Settecento, poi loro iniziavano anche da piccoli, iniziavano con l'argilla, poi si passa alla formatura in gesso e poi con un modellato in gesso si va a portare tutte quelle figure anche sulla figurazione del naso, la bocca, verso la pietra. Questa è appunto una tradizione che parte anche dall'antica Roma, quindi abbiamo una tradizione in Italia che è anche a Gubbio, quindi è una tradizione grande che parte proprio dalle mani in pasta con l'argilla. Gubbio fa parte anche poi del mio cuore, quindi essendo Gubbino, diciamo, è cresciuto nei vicoli di Gubbio e senza dubbio si suscita quell'emozione che poi è indescrivibile, anche vedendo il Palazzo dei Conti, diciamo anche in Climaceri, diciamo che quando si guardano certi monumenti è impossibile poi non trasmetterli in quello che uno fa. Di recente Gianluca ha collaborato con le maestranze che hanno riportato alla luce l'uovo di Mirella Bentivoglio a Gubbio. Per me è stata una grande soddisfazione aver collaborato con l'Università di Moratori, in particolare col Presidente Giuseppe Allegrucci, in particolare ho lavorato sulla parte di muratura. Diciamo che si è creato un bel clima, diciamo ecco, come volontario, proprio perché l'unione tra i giovani e quelli che diciamo con molto più esperienza non è sempre facile al mondo d'oggi e questo è anche un incentivo per i giovani. Diciamo che a mio parere sarei molto più contento vedere nei vicoli di Gubbio risentire quel suono della pietra scarpellata, oggi invece è un po' da ritrovare questa tradizione in Gubbio, in tutti i suoi mestieri, non solo nella pietra. E quindi per me è stato ritornando a noi, è un bel orgoglio aver partecipato a quest'opera di Mirella. In un prossimo futuro Gianluca spera di trasformare la sua passione in un lavoro e continuare a trasmettere le emozioni nella scultura, con il gesso, l'argilla, la pietra, attraverso le proprie mani. Il sogno mio sarebbe continuare per poi riportare la tradizione Gubbina, quella della pietra, con i grandi poi maestri che sono Calzuola, Ubaldo Pizzichelli, quindi diciamo che a Gubbio ci abbiamo una tradizione molto forte della pietra e quindi il sogno mio sarebbe continuare poi questa tradizione che anche per i giovani è molto importante, penso. Spero che possa diventare un lavoro e ne sarei orgoglioso anche se anche la mia passione è anche l'insegnamento verso i bambini proprio perché credo in questo trasferimento delle passioni da quelli più grandi a quelli più piccoli.